Jessica Alba, il pancione cresce al ritmo delle onde del mare Portare il proprio pancione al mare, tra le onde, fa davvero molto bene e Jessica Alba segue in pieno questa regola, ecco la splendida attrice mentre gira un video boomerang, mostrando ai fan lo splendido effetto della sua terza gravidanza Jessica Alba e il suo bellissimo pancione al mare, ecco il video. Esiste una curva più dolce di questa? Ecco Jessica Alba con il suo splendido pancione già molto pronunciato, mentre si gode la brezza della spiaggia tra le onde del mare L'annuncio della sua terza gravidanza è arrivato a luglio, esattamente il 18 del mese, con un video davvero molto grazioso e divertente che ha visto la collaborazione delle tre donne della famiglia Ve lo ricordate? Su un incantevole scenario in stile spa allaperto e con uno sfondo composto da piscina attorniata da una foresta di palme, ecco le tre protagoniste della clip, si tratta di Jessica Alba e delle sue bellissime figlie, Honor Marie, la più grande, e Aven Garner, la più piccola Le tre bellezze di casa Alba Warren inscenano una piccola gag per i loro fan e il momento è catartico, visto che si tratta di un annuncio molto importante La maggiore regge un palloncino gonfiato con l'elio a forma di numero uno, mentre Aven ne ha uno con il numero due. E Jessica? Mostra ai fan un gigantesco numero tre, mentre accarezza dolcemente il pancino nascosto sotto un abbondante vestito nero La cicogna, dunque, sta per portare il terzo fagottino alla supermamma Jessica Alba, che non sta nella pelle ed è felicissima di poter realizzare il suo sogno di avere una famiglia numerosa A dire la verità, poi, se i calcoli dei fan più attenti sono giusti, la cicogna potrebbe avere le vesti di ebabbo natale, se, come spesso accade tra i VIP, la notizia della terza gravidanza è arrivata dopo il primo trimestre di gestazione, allora al momento il pancione di Jessica segna quota 5 mesi, e dalla rotognità evidente potrebbe essere proprio così mentre la nascita potrebbe avvenire a cavallo tra dicembre e gennaio Jessica Alba, mamma manager superimpegnata Nonostante due figlie piuttosto esuberanti e un terzo, chissà se maschio o femmina, in arrivo, Jessica Alba è una supermamma con una carica inesauribile, piena di impegni lavorativi che, a dire il vero, non vuole proprio mollare vista la giusta causa La splendida americana non è soltanto una bravissima e affermata attrice di film e serie tv di successo, ma è anche una manager, e letta, tra laltro, come America's Request Self Made Woman da Forbes, non più lontano di due anni fa Qual è la grande impresa di Jessica? Creare un mondo migliore per i suoi figli, grazie a un grandissimo progetto promosso dalla sua compagnia, grazie alla quale produce ed esporta in tutto il mondo prodotti, dall'igiene alla pulizia, con il minor impatto ambientale possibile In ultimo, The Honest Company ha fondato una sezione inerente al beauty, i prodotti di Jessica, di altissima qualità, sono realizzati senza parabeni e derivati del petrolio e si sono imposti, tra marche più che celebri, ottenendo prestigiosi riconoscimenti In ultimo, The Honest Company ha fondato una nuova per i suoi figli, grazie a tutti i suoi figli, grazie a tutti i suoi figli.